Ehi ragazzi, il mio progetto è un simicone che a portare. Dai, ehi. Ma te ne hai calzazione. Dai, passi, ma bravi, dai. E Borraccio che le porta? Andrò. No, non lo fa, le porto più lì. Dai, andiamo. Adesso no. Borraccio te, Nicco. Vai. Sane, leader. Forza ragazzi, tutti insieme dobbiamo andaccone, dai. Guardate uno al mister, dai, tutti insieme. Borraccio, andiamo. Tutti vicini. Salutiamo, salutiamo. Salutiamo. Anche in cima. Ciao. Grazie a tutti.